Dai, amore, guarda verso di me. Cosa? Fai l'amore con la videocamera, coraggio. Piantala! Dai, facci un po' l'amore. Che stai facendo? Niente, girati, dai, girati. Ok, che cosa vuoi? Cosa vuoi che dica? Manda un messaggio. Qualcosa per i nostri figli. I nostri figli? Sul serio? Ok. Sì, quelli che avremo insieme. Wow. Ci innamoriamo, ci sposiamo e abbiamo dei figli. Anni dopo, quei figli frugando tra le nostre cose scoprono una vecchia scatola di scarpe piena di video. rimarranno per sempre, di solo il tuo nome e l'età. Girati, di nome, età e manda un bacio. Ciao, mi chiamo Eve, ho appena compiuto 21 anni.